Esoscheletro, una vera meraviglia tecnologica. Ormai ne sentiamo parlare da molti anni, ma allora come mai non stai ancora indossando un esoscheletro? Beh, ovviamente la limitazione principale per ora è la fonte di energia. Sono state considerate varie opzioni, un motore a combustione interna, del cella di idrogeno e quelle che stiamo usando adesso, delle batterie. Ma anche con la tecnologia di adesso, le batterie di un esoscheletro non durano più di qualche ora. La seconda limitazione è sicuramente la vestibilità, o più precisamente replicare l'anatomia umana. Questi esoscheletri non sono come dei vestiti. Quindi per non essere fastidiosi devono riuscire a seguire l'anatomia umana perfettamente. E alcune giunture del corpo non sono affatto semplici da ripetere. Pensiamo per esempio alla spalla umana. In più produrre esoscheletri che si adattino a tutti i corpi è molto difficile. La terza limitazione è che in effetti un esoscheletro ci rende meno forti. Sì, lo so, è un paradosso. Ma è stato osservato che un uso collegato di queste macchine può causare il cosiddetto decondizionamento di allenamento dei muscoli, con una potenziale perdita di muscoli nel lungo periodo. Insomma, come ogni superpotere che si rispetti, anche questo ha i suoi limiti.